MUDAGINISTA IODANA Ho ancora un asso nella manica Puoi farmi guadagnare tempo? Puoi comprare su toi? Osservami! Ora inizierò il rituale per esorcizzare il demone RILASCIO DEL SIGILLO! C'è… 귀찮지만 거들어 주지! RILASCIO DEL SIGILLO! RILASCIO DEL SIGILLO! RILASCIO DEL SIGILLO! RILASCIO DEL SIGILLO! TU FONACHI yaSTO! IMPUBIAR PATRESSOLO! ... TU FONACHI yaO